1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, go! He's a very specific for me! And, very comparative for me! What do you want to hear? Comparative for me! You mean us! And... And our kind! Against the world! They were always a big deal! I was a mathematical person! You were a mathematical person! But before I was a mathematical person, I was going to do my job! I was going to do my job! Non dice Cipris Sono Chasuris Lipò, i dieteteros tipos Número 31, Costantinos Ciprianuc Cata Cosmon, Cotxos Picatillis Cotxos O Picatillis Cotxos O Picatillis Se state matemine o storite Mea fanan, ora siete mucure Meno, se me rai chalasem Mugammo spoiler, ta panda To image, ulla Cotxos Picatillis osientoni Xeru, malonosi to Xeru Nembule me sollev cosían E veksa worldwide lately Ne, ne Turmechri Vietname Printo Covid Printo Covid a ne megalimus tigmir File Ego obsesu da un lado Covid Nax, se vos ullus Nyo toxok se choristos Cati, cati išes mnian persona Semnian fazi Diáfores E išes mnian persona cati in general, cati, oi Opa Oi, perimen Enimu ne govoteci unos, by the way Acoustiken Milaziaton Fimi Pemo Ida Fimi Ida Fimi Enimu ne govoteci unos Ego zimume Zimume se Me panteloni Con lidon Ben bananes Atengam rola Colan, re, file Idan panta colan Ok Entrax Kápia fasi ni Kijenji ni mu dax Kialen tako Angelo Alimu gocce Amo i pashines Eda la la Di se parakala Entraxi file Eda Me ta pa tessera Kipro Ne poli Nda suvlak Ega To la bennis l'abbiamo capace E' pieno, sono leopardalè, leopardalè è il primo, ma è un genio e l'escrizione, cioè affanano, affanano i pellares. Si, passano un stand, xileno, xilone, prima per xeno Fox, e poi poi xeno Fox. E' altrimenti, ora hai fatto il prossimo. Adolpso, adolpso, alla prossimo. Prima di pubblico, non face to face, è la prima volta che ti s' no commento, non c'è problema la luce da banca io sono così hipster e juopera allora ho cercato ho fatto luce lo sa io non mi so hipster tu non è e su una fase mi sembra di tanto quello che eravano in un'anno fai i vals i gatti teschio Opa, something preaskèφteca C'era, non lo so, pi xa isso E guarantee no, non lo so, i nem lo so, i libnini, o gichnon, mi sa scondendo il Shaolinio Opa, pa ra 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 spiego era un po' tempo ero un po' questo è stato tipo poi c'era un mi mani su barriera lui mi diceva č ho visto che sono picatinoso okey poi c'ero un po' un par merit su sadanio e pilla i talion travmatica e pilla e pilla e pilla e pilla E' la standard... ma abbiamo una piaccia di casa Un piaccia di casa Una piaccia di casa Abbiamo una piaccia di casa E' Stefano bello, diciamo e lavoratore e lo volevo lavorare anche Di casa è un giaccio e viene a un piaccio abbiamo in piaccio poi si prego la chiaccia e spesso i sciarici quando si prego la chiaccia non prende e pego è così Si prego la fare è un altro Ah ok per quanto riguarda l'istoria per quanto riguarda l'istoria era il punto del festival il concepto si chiama community type festival questo significa community type festival di creare un cosiddetto che fanno fottigame, ammone, giamettes bananches, eccetera per creare un livello in cui il cosiddetto è un livello per creare un livello per creare una città in teoria, proprio perché lo vi è stato fatto ora ti ho già scoperto in questo modo, ho pensato ma non è una idea io ho pensato, per quanto riguarda l'istoria per quanto riguarda l'istoria per quanto riguarda l'istoria per quanto riguarda l'istoria questa idea perché ho molti o'istoria 10 ora hai chanedi 10 anni sicuramente sicuro ho stato il mio compagno in questo caso ho visto una gente che era e si era stato per i vostri aiutati e ora eravamo i figli rispondendo e in questo mondo è un cosmo ovvio era una persona io mi continuavo a quello che eravamo quindi mi seguirono allora mi seguirono mi seguirono perché ho trovato un po' più veloce poi ho fatto un compagno e quindi mi seguirono Anche per fare più inizia di Verolinio e ho bisogno di qualcosa di prima, e ho dovuto di cosa di prima, ma poi ho bisogno di sempre, perché mi ha detto inizia anche il fio di più. Inizia anche il Fio di Pico. E io ho avuto il fio di Verolinio, ma ho dovuto inizia inizia con il Fio di Verolinio, ma ho avuto inizia anche il Fio di Verolinio, ma ho avuto il Fio di Verolinio. hai mixato in questo modo hai visto le cose di New Division di Svura che ho fatto in questa fase ero in questo modo ho fatto un experiment con le esperienze che non ho fatto ancora le design experiences e il grafico che non ho fatto ora poi è stato grande e non lo facciamo 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 in questo modo ho fatto un'occasione in questo modo come sull'imba perché non ho oltre il buzucchio oltre il buzucchio il radiofono quando mi mo��i lui non mi un pubblico e sono l'occasione sposto alla Però il ragazzo ci sono altri fantastico e mani il guvy avevi in questo modo non lo facciamo e non lo facciamo alcuni o OR Ho scurito con noi, ho scurito con il suo suzami. Perché hanno fatto alcuni prospettivi. Perché hanno fatto alcuni prospettivi. Perché non lo facciamo, io non lo facciamo. E così è che ho accaduto con le tassi. È sicuramente il nostro lavoro, il mio architettino e il muzico ha vinto a creare un'empirazione. Però c'è alcuni hanno fatto alcuni. E hanno fatto alcuni. Abbiamo fatto un bambino per anni. questo è il nostro nuovo realtà ci siamo azzerci in una nuova regione è la nostra Repubblica è stato il Rose Island? è stato il tuo progettivo è stato il 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 progettivo e' un paese di Italia e' un paese di l'Italia e' un paese di l'Italia e' un paese di più vicino e' un paese di una platea e' un paese di fare parti era tutto era una tazera ma quando avevo fatto con la Martha abbiamo fatto un paese di fare ma come potete a dibuixare un'evoluzione non è un'eco E' una cosa sicuramente sono un figlio che sono venuto, non sono solo un forte, non sono un'espero, 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 non è un'espero. E' un'impervolità, diciamo, suodromicoli. E' un'impervolezza molto molto. Ma stai e questo è. Il prossimo movimento è che noi, non è che noi stiamo, non è così che non lo agiamo. Ma noi abbiamo preso, non abbiamo preso qualcosa di nuovo. Perché, stiamo verso l'ideologio, stiamo verso l'occa, ma non stiamo verso l'occasione. E' un'impervolezza molto maggiore. Abbiamo un nuovo sponullo, L'immagino a tutti che venivano fuori dall'exterizzazione e c'erano altre cose. L'immagino di una grande antidrazione e c'erano davanti di cipriani. Iniziamo in Cipro, ma abbiamo molti innovativi. E' un'innovazione, un'innovazione, un'innovazione. E la città in cui viviamo, non è un'esplosione. E' un'esplosione, non è un'esplosione. i cristiani io ho un'estima e ho un'estima e pensavo perché mi devo fare un'estima le mie mese e le ho un'estima c'è la loro la mia è una altra la mia è una altra la mia l'estima la mia ma è in un'estima il cult è una è una non è leader in that essence leader se polla prospettina non è in the fact of sense that was the fact of sense istorica era un po' less ford da ξeginare ommorfa che non è capace il problema non è il problema il misconception è che è facile che qualcuno può fare e pensare che non voglio non voglio ma non mi parte del qualcosa non mi parte non è siamo faccio Ora abbiamo trovato un mondo, siamo molto speciali in Cipro, credo che abbiamo trovato qualcosa di speciale in Cipro. E' bello che ci siano raggiungi, ma anche se troviamo la terra. E' tutto l'altro ora. C'è quello che faccio in Cipro. C'è quello che faccio in Cipro? C'è quello che faccio in Cipro? o per il dipendente non è un personaggio ma dovrebbero essere un'azienda per noi, per noi, per noi per noi, per noi, per noi per noi, per noi per noi, per noi, per noi per noi, per noi, per noi non pensiamo che ci sono cose sono delle cose che sono molto interessanti e hanno fatto un'azienda con i dici e non pensano che ma che mi chiamo a fare l'azienda ma che non pensano. E credo che mi perdete le parole e un'azienda e quando si era il loro diritto ma c'è 4 velocità ma ha detto ho una palestra che abbiamo una buona e non è una pittazione che che piacciono la parola Ma che si tratta di un'esplosione, il risultato di un'esplosione. Ma che si tratta di una città, ma che si tratta di un'esplosione, perché sono un'esplosione, che siamo noi, che sono i Cosari, che sono i Driantarini, e che sono arrivati a un'esplosione a una città che non lo si tratta. Con un'esplosione, un'esplosione molto molto, quindi si tratta di un'esplosione, E' un' middle age crisis, è il fosso di essere l'athnato, io ti lo vedo? N'argo da essere in casa, non si che sia il momento. E' un po' che è il tempo, non è il problema. ma è tutto il momento. Come se, adesso voglio fare un 5-jährimo e voglio fare un iPad e lo faccio e non lo faccio. Ma non può essere una cosa. Più piuttano i 5-jährimi per fare un replay di 16 anni. E' un'esplice. Più piuttano... Ma perché... Anche le cose, per cui vuoi fare un'esplice? Perché vuoi fare un'esplice? Perché vuoi fare un'esplice? Perché vuoi fare un'esplice? è meglio. Dessuto che è diverso. E' un po' dei fotti nei sîndromi del giardino o dei sîndromi del uomo che sono così molto che facciano un bambino, che ti fanno e se ne fanno male. Sei un po' di una vita di essere il giardino. E' un po' di aiutare. 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 i miei giovani hanno imparato con me, mentre erano conservativi, con le ideologiche, ma erano iniziative, e si erano iniziative, sicuramente cose stavano inizialmente. Non ho capito, non ho capito. Non ho capito, non ho capito. Non ho capito, non ho capito. Non lo faccio inizialmente, non lo faccio inizialmente. Non lo faccio inizialmente. E' una liberazione. Non lo faccio inizialmente. I mei zamiare inizialmente. Non l' speedo inizialmente. Si es inizialmente. Entituzko un' like? Si pensi che ci sono l'opportunità che mi confiniamo oppure e che siamo tutti withinizialmente. Se sei se si è inizialmente se sei. Ci dicono, non ho peggato e a lo scopso. Se si è un problema, perché, no, possiamo dire che siamo capi di essere capito per che arriviamo, ma ci si hanno potuto e le forti e le forti e le forti台 e le forti, per il tempo e la prima tua passione non ci ha fatto l'esperienza di essere attraverso le cose e la prima cosa non pensare le cose perché non ho capito la prima cosa la risposta è storica la risposta è una cosa che si no e non è storico, è molto molto più come un'anthrobino, abbiamo fatto un'adaptistiche è molto molto più perché sentiamo che noi, noi stiamo fomentamente e il fomento, il fomento, il fomento, il fomento non è qualcosa di altro, l'adaptabilità è il fomento che il fomento è il mio figlio e il mio figlio è il mio figlio e non ci sono fomento, non siamo in Threusciano perché siamo un cristiano, un orthodocziano e ma come un'anthrobolo, è un'anthrobolo è un'anthrobolo che accendente molto io l'attravo l'Asia, l'attravo l'Asia e mi giro in Asia, eri l'attravo l'Asia in questo caso, eri tutti i cristiano orthodocziano, anche la linea pensi, eri l'attro, eri l'attro eri l'attro, eri l'attro, eri l'attro e l'attro, eri l'attro mentre eri l'attro, eri l'attro e l'attro, e il fomento è più più spirale è un'attro Non è una cosa più felice, ma è una cosa più felice, ma è una cosa più felice e una cosa più resistente. di una like. E' stato una tecnologica emplice. E' sήμερα ho scevato delle edificazioni di pili, di un'emvoliazione Poi e' un'epfasso e' un'epfasso di pili E' un'epfasso di un'epfasso di pili E' un'evoluzione. Un'erreo. Un'erreo. E' un'erreo. E' un'erreo. E' un'erreo. E' un'erreo. E' un'erreo. E' un'erreo. I'eviato il titolo e mi ha detto che non sto parlando niente. O turcos hacker hackei, c'è un'acqua. E' stato un'acqua con le evidenze del aerodromio Larnakas. Ma che l'evoca era l'avere che la Commissione era per averloce la noma politica e i tessi. E' stato un'acqua per averloce la noma turcos hacker. E' stato un'acqua per il pubblico di nuovo e diceva che non c'è un'acqua. perché è venuto un'occurità quindi hai avuto un'occurità? Ha avuto un'occurità ma non ti accolto, ti ho chiesto di più ho una cosa che avevo un'occurità Non ho avuto un'occurità non sono avuto un'occurità avevo un'occurità avevo un'occurità e ho avuto un'occurità ma non ho sento sento un'occurità non è stata un'occurità e perlché non si lo rius Christiansi e, ma sta facendo la trama conness e domani diciamo che ci dicevano lo che li va voler e sono stati in Athenai e calciano, ci sono stati vanno chi associati, ecco voi e c'era una volta i suoi erano un'azдolabile e ho fatto una persona molto aveva un palco qui aveva un'azdolazione aveva una scelata aveva un'azdolazione per 10 anni aveva un'azdolazione prima di farci ho fatto un'azdolazione e c'è la possibilità come qua le vedi? Nè, ma la vedi che è una cosa molto più è cazardana, facciamo anche la musica, è cipò è un po' di a fare, è un cazzo, è un cazzo che vuole che vuole per fare, perché è tutto molto molto importante, perché cazzo qualche cosa che fanno, pari o città, va un club, va un po' e vedo un club, però si vede avto, il caffè non è per i due l'occam, cazzo, ... gli dar la peccatura, gli dargli lacrore, i tambi assaggiate la più qualità. Erggeggi vanno a vedere il cazzo, ciò che sr работать. Cosa sta via il cazzo? yn minuto di acale... ... di i tu, tu... ... di i tu, tu... ... in ognisytero tipo di vibe, in tutti i tu, tu, la party, da te lo faccio... ... di è un cazzo che mui per il cazzo. Si, 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 non si, non si, non si, se, non si... non ti ho spero, non ti ho capito lungo da mezzo, vai, si accorgani, si ha avuto una piada, perché si faccio un raiolo, ma ti la metter Administrani l'indonto. E tu non ti dice la raiolo di interno della INBI. La INBI è stata un'apertidico, è un'accusa di diritto dietro, con lo stiamo facendo. Il fatto che il主o è stato un'accusa ma rossi di teoria, ma la loro sono che il corso che è sempre più receptivo nella tècnica, perché non è iniziato con il trono, ma abbiamo fatto un'empatanza, abbiamo fatto un'empirazione, perché abbiamo fatto un'empirazione, abbiamo fatto un'empirazione, abbiamo fatto un'empirazione, Sì, abbiamo avuto un po' molto più diversi. Vorrei, io ho chiamato un po' molto, non mi paremmo, non mi ha detto di più su me. Ma ogni volta avuto gli altri spettatori che hanno avuto il nostro punto di partecipare, non lo capire... Ma avuto un po' di partecipazione. Per esempio, è quello che abbiamo fatto il primo interactive con l'elektronica stage, equivogionate il corno. Vediamo il nostro approfitto quindi dovevo anche fare un'oggiore molto часто. Abbiamo una stessa delle squadre che ti puso così, avevano l'ocmèdere la realtà in Cipro. L'ocmante normale non avevano le letture di applicazioni, ricordo le letture delle applicazioni sull'ocmatorioreiben si anyway, che avevano il contato una sicurezza, avevano il corso sull'ocmatorio, con il corso della scena. Il Drafton Banana avevano piattere con la musica La prima volta con il Lambracchi hanno lavorato con il Sparavan Havano lavorato da qualche tempo C'era una concettualizzazione Concepsualizzazione Concepsualizzazione con la tequila con la chile in tutte le scuole hanno fatto ho fatto la scuole hanno fatto una scuola di fara di tecnologia per la prima volta erano facendo una scuola di tecnologia la scuola di referent, la sua scuola, la sua scuola la cosa che ho si guardo, la soviet union la scienica, la scuola di un'occhio, maestro la scuola perché la scuola è una scuola, la scuola è una scuola Quindi abbiamo fatto inovamenti inovamenti in questa fase, molti cosi hanno avuto un paese, non è venuto da fare una fase, molti cosi non è venuto in quanto riguarda, ma non è venuto da capire qualcosa di più. Per questo non hanno fatto anche i kid's workshops, in questa fase inovamenti inovamenti, perché credo che, che per l'escrizione di nuovo, era la prima volta della sua scena, quindi era più sostenibile, più green thinking, più human rights, E' un'elemente di sorpresa. Dona noi facendo. Perché il Element of Surprises in Musilio crea una empyriazione non so che volessi. Tu hai visto? Non lo stai qui chodzi. Doi ultimo anni, siamo i suoi concerti. Il Sui di una volta che volessi nella tua vita che il suo continuo, che ti senti ancora che il teo che sanno, perché il mio ero sanno? Perché si senti il mio compagno di un 오른cino e l'inniınzano. Un'estitato, un'estitato... Non c'è mental. Nè, l'altro è tutto, perché era da fare un vomitaio. Ok. Il primo è un affron banana, era da fare un 10 anni del vomitaio, e in questo momento è iniziale. Ok, rè, ma! Nè, I know, che una buona idea! Alla c'è un momento che si può fare un film di death metal, in un festival, in un corno, non è una sua vita per la vita. E se mi spiei un affron banana, per me è tutto questo, per fare un cosmo un erotato, per la creazione, per me, per mi, se mi spiei un tempo, se la c'è un festival e la facciamo. E ora si con il l'erotato di trettichà. Alla, ancora con i musici, che ho trovato la creazione dell'empiria, per la creazione, a scoprire il nostro processo, se si scrive una nuova metà suonare, un po' iniziale, non puoi ne facciamo, non puoi ne facciamo, non puoi ne facciamo. Or境ato da me stalkerate Ora questa incontrione da Giovasi Decirala ma che par 50 anni ci siиватьò Direi come come par fare le persone I come saddiando i Italy Che vuoi ob Lahiri Non mi siano tuttoblevo, non mi arazi ognuno, nel mio figlio!" Capti? E poi faccio tuttoblevo, alleremo il nostro spazio, Perciò quando voce alla popolazione, ... ... O che volevo, attravo, attravo... ... Ero dovevo sto all Consolvere. un'altra vita, non mi ricordi. E' un'ora che era il festival, e' un papà di Giocelli. Ok, non è certo che ci ho messo in questa fase. Ok, ma non è stato il nostro sito. Ma non ci sono un sito, non mi ricordi gli gli altri, e' un'una vicenda in Italia, ma non ci sono. Perciò 500 giorni ogni giorno, e' un'esplosione, non ti sono cala, ma non è? E' un'esplosione. E' così. e questo è quello che è il vero, è il mio casa, è la mia città che è sempre ancora, ho gli amici per ogni tanto, ho gli amici per ogni tanto, ho gli amici per ogni tanto, ho gli uomini per ogni volta, i tessi come ancora vedava il settimana. Questo è quello che sta secondo me, è il SVP, il mio tempo è il mio tempo, quindi la settimana viene, ora per ogni anno, perché abbiamo i metodi per ogni anno, sott Torah. l'olgo del festival. Alla in septembre per la prima settimana per il prossimo settembre. Alla cosa ha detto in APR? Erròntiessi. In APR, dopo la terapia, era una microcoscopica. Ora era una microcoscopica. In APR, dopo, in altri concepti. In APR, in APR, in APR, è l'alternative brain rule. Etc' piè crea, En APR in APR? In APR in APR, in APR in APR. In APR in APR, pues in APR, in APR in APR è il laboratorio da toluette in ASC. Penihavare come l'interpaul 종Help... aspecto. permanence, what's permanent, what's temporary ασχοληθήκαμε με γεωλογία της Κύπρου, ασχοληθήκαμε με choreography and architecture oi la parà polla θεωρητικά που καταλήκασες σε ένα public intervention κάπως, και φέτος ξεκινήσαμε και το API in action το API in action είναι activismos και τέχνη μπορεί να κάνω εγώ την πρώτη μου έκθεση που έχει σχέση μαζί με θα το αποκαλύψω δεν το αποκαλύψω από πότε μπορείς ένα μικρό tip αλλά βασικά έχει δυο χρόνια που χτίζουν την έκθεση που έχει σχέση μαζί με τις απειλές της δημοκρατίας όπου απειλείται η δημοκρατία είτε περιβαλλοντικά πολιτιστικά διαθροπινά δικαιώματα εγώ παίρνω an action και έγινε το πρώτο στην αρχιεπισκοπή που έρυψαν τα σπίτια έκαμε εδώ το πρώτο intervention εν τα πειεν, σούπερ αλλά έχω ετοιμάσει πάρα πολλές δράσεις και στην Πουρνάρα και στο εγκοφήνου και στις θαλασσινές πηγές και στη Γεροσκήπου είναι να το δείτε γιατί είναι ένα huge που έχει σχέση καθαρά με ακτιβισμό και τέχνη και να γίνει μια έκθεση να προσπαθήσει να ξυπνήσει τον κόσμο γιατί οι άνθρωποι μας κυβερνούν απειλούν το πράγμα που εκπροσωπούν το σύνταγμα μας το σύνταγμα μας εγγράφτηκε και αμέσως εμείς ψυχισούμε πολιτικούς για να ακολουθούν το σύνταγμα και τίνη ανερούν το συνεχώς για μένα το πράγμα το τελευταίο στις επιφάνει είναι το πράγμα τη συνειδητοποίηση για το πόσο φακτάπ είναι το πράγμα να σου το θέσω έτσι γιατί είναι πάρα πολλά φακτάπ να σου πω μήπως δεν ξέρω αν το ακούσεις σαν μήπως είναι τα αδιέξοδα του καπιταλισμού είναι τα αδιέξοδα του καπιταλισμού Non, ma non si... In un'antidrassi dino politica... Ego credo che è che… ...un'alte amici è un'iquia grande per il sostegno della nostra cara. Standa! Eccolo che ci spostano… perchè ci spostano, come faço, ma non si... ...Altre questi esi molto… ...duo'n'inerci ama di essere amici per le persone a differenza… ...di quanto è quello che essere starato in lockdown con la louc stanca... ... premi la manGGERA e il pubblico di fare una grande campana… Non si lo so, è solo una cosa… Sono spremiati affilati, fiumiati, è un campamento concentrato. Appure sui fare l'acvento, appure sui fare l'acvento, appure sui fare l'acvento. Eppure sui fare l'acvento. E' lo che dicevano invece uno litro di nero. certo quindi è tutto il mio ok se crede a chi è il mio amore Richard Macquieu è tutto il mio ok si si ti ripeto il mio amore di maggiori è tutto il mio semplice non è così se 20 anni che fuori che fanno che fanno e di andare in cui se spiace e di tutti i due e di me e di me una volta grazie la forno e di me non ti bemmi sorry che vengono e e io con lo Buurnara è stato un christo che prende la pizza che va a fare l'eserontica in Coffinu e mi ha detto una storia una volta ho avuto i cani la prima volta ho avuto i cani la prima volta ho avuto i cani la prima volta ho lupato la stena ho riuscito la prima volta la seconda è la seconda è la seconda che ci sono tutte le cose che succedono in Cipro e la terza è la prima volta che non è successo non è successo siamo nel 2021 ci siamo in Cipro che non è successo čia in Cipro e siamo ok ci si chiuso in Cipro ma non è successo non è successo lo universo è sempre non ho credo non ho credo credo sia molto una prima volta non è vena non è cambiato non è arrivata non è sempre non è stata fatta le cose. Non c'è nessuna cosa. oi tròi sei valli sei messa tu capelloni sei e hai chiesto in un altro modo e l'aspo mioni sei e apportati tutto tutto e pianto è stato se 3-5 anni in cui le scuventi in cui mi sono arrivati non è stato potente tutto 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 e l'altro tutto non ho sperato perché come cipri oggi è stato siamo in un metro non ho avuto molto avuto oi polla crii in un certo abbiamo la scanda la scanda con il paese non è così per noi per noi per noi per noi siamo in Cipri e usci sono in Cipri per Cipri oi rè fiede è giusto che è un'agenda ma se se oi se oi se 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 oi se oi se 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 e non c'è quello che non c'è, e se non c'è qualcosa di più ognuno. Molto significato è che siamo romantici, molto significati. E perché è che ogni attività sia la tua città, e ogni attività sia la tua città. Grazie a tutti. 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 Highlight. Grazie a tutti. 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 Il più piuttano è di più inizio prima da prov cross medi. E così vi voglio dire che ho avuto 3 immagini. E vedi le parole che sono tornati davanti, che per fare tutte le parole... e nelle immagini, mettiamo in questo modo. Noi voglio dire che ho avuto il posto dell'attenzione. Con questa scelta, se guarda. Non lo serve. Se un pere invece non lo serve, non lo serve, come lo serve con povesse. Non lo serve. Ma se può essere di defrazione. di influenza di un'influenza di qualcuno e non è, tutto nemmeno ma non fattai il polistico eventuale fattai la tua sua, il suo scolio, il tuo monna e fattai per chi lo ha fatto perché dove dovrebbe essere fattato il terzo, il terzo è stato un'esplice di quello che aveva fatto la sua, la sua, la sua, la sua la sua, la sua, la sua, la sua, la sua perché è stata fattata di qualcuno e è un'esplice di un'esplice e è un'esplice di più non è più di più di più di un festival per quanto riguarda una consapevole o una scena o una scena o di tutto diverso con la marion di Le Mesù o in between rich people o della cultura o di un documentario che si chiama che si chiama che si chiama che si chiama è una scena sono stati una scena ora parliamo di legalizzazione lo Anastasiadis non c'era un calcolo nelle precedenti le dalle se non c'era un calcolo se non c'era un calcolo se è un marihuana che si sono più a questo se sono in calcolo dov'essere un calcolo e mi sono molto piacere ma in questo caso non stiamo parolami se si è un amore si è tutto non è successo Ok, tutti esitati, secondo il mio gioco oche, il mio lavoro, quando si usci al gioco, si mi ritrova alla vita l'opposizione, se ricomincia le delle cose in un'era伊seksistica, gli hai detto andare ok. Quindi il very strategicimento e dire, senza questo tipo, che mi piace, che non è ok, perché non è ok? Perché non è ok, quello che ci guarda? Stai sull'esperienza, ci ho hai fenomeno che fui venire indietro a me freddo? sembrava che il resto donatore Per essere una nuova popolazione e abbiamo creato un po' ilquerico Ma se il corso è un po' il corso, non so se ci prendiamo Ma se non ci sono molto stato, il numero uno Cosa vuoi fare un po' inizio di una vita per avere un po' inizio Il corso è il tuo po' inizio di essere un po' inizio E' un po' inizio di essere un po' inizio E' un po' inizio di poterli un po' inizio Era una stigione, una stigione, una stigione, una stigione. E' un'esplice di un'esplice, e' un'esplice di un'esplice di un'esplice. Questo non è, ragazzi. E' così prima lo vedo il mondo. E' un'esplice di un'esplice di un'esplice. Sorry. È proprio lo antitheto. Perché lo fasiato, perché il fascismo è stato un'esplice, non sono mai scerchides che riuscite. Lo fanno qui c'è sotto, e' quello che si può fare. S' e fi un'esplice in un'esplice commerciale, con così poils sono i loro, che tada tra la nazistica e i loro sociali, ma non ci c'è sotto, per avere un'esplice, c'è un'esplice di un'esplice di un'esplice di un'esplice, devo avere un'esplice. E se non può essere che non può essere capitolizzare il capitolismo? Perché le persone reagono, e... Sorry, Gioras. Sorry, eh? Noi, noi. Tu lo abbiamo detto anche nel primo primo mito di Adam, che è stato un'azienda di Somonina nel 1948, non ho visto il 9 di Smaio che è venuto in mezzo. Respecto, è romantico. No, 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 bravo. Non mi memoria di spadevo, non ho accolto nessuna potosfera. Non ho capito. 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 Voi, molto. Grazie per te. Non è bene. Prendiamo altri topi. Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Il numero 31. Si non ho capito. Si non lo capito. Si non lo capito. Si non lo capito. Non lo capito. Se non lo capito. E' molto il video. E' molto più. E' molto il video. E' molto subito. E' molto più? E' molto più. E' molto più. da l'istipo scolio peace out man ciao stop stop